Mostre mercato, esibizioni e giochi per bambini per ravvivare le piazze principali grottamarese supportando così le attività commerciali e questo lo spirito che anima gli appuntamenti in programma in piazza Fazzini e piazza Carducci. Per parlarne nostra ospite la consigliera del comune di Grottamari Cristina Baldoni delegata al commercio delle attività produttive. Sì, il progetto si inserisce in un discorso di animazione del periodo autunnale notoriamente più fragile per i nostri contesti commerciali. Perciò passiamo dall'organizzazione di alcuni sabati per piazza Carducci e piazza Fazzini ai quali possono aderire le attività proponendo degli sconti e apponendo sulle vetrine un adesivo che è stato fornito dall'amministrazione. Gli eventi consistono appunto nella partecipazione delle attività e in momenti di animazione sia per i bambini e i ragazzi con dei giochi gonfiabili in mostre mercato e nella partecipazione nel pomeriggio di eventi caratterizzati ad esempio in piazza Carducci un evento già trascorso che è quello che ha visto la partecipazione del maestro Valentino Alessandrini violinista per poi passare al 4 novembre che è l'evento che interessa il centro di Grottamare con il gruppo folcloristico Ececaface, giochi gonfiabili, eventi di pittura allo stesso modo. 8 dicembre sempre in centro a Grottamare con degli eventi anche dedicati al Natale dopodiché torneremo il 18 novembre a piazza Carducci e il 16 dicembre altrettanto animazione natalizia in un contesto sempre di partecipazione delle attività negoziali e commerciali che possono apponendo l'adesivo partecipare all'attività proposta dal Comune. Tutto questo in un contesto di rivitalizzazione proprio del nostro tessuto sociale autunnale. Grazie.